Questa è la terza struttura della Dimer Truck in Italia, che abbiamo appunto aperto il 4 luglio, è l'ultima nata e probabilmente per un po' abbiamo deciso di finalizzare ad oggi il nostro ampliamento organizzativo sul territorio del nord. Brescia è un territorio, è un'area che ha avuto storicamente anche grandissime performance da parte di Mercedes-Benz, nel senso che addirittura è il terzo parco circolante d'Italia, è un territorio in cui ci sono tantissime sedi di flotte di vari settori, quindi è senz'altro un posizionamento strategico, peraltro sull'A4 e quindi sulle maggiori direttive autostradali. Per noi significa un'organizzazione votata al cliente su Brescia, nel senso che abbiamo realizzato un impianto che è moderno e all'avanguardia direi, all'avanguardia non solo in termini di sostenibilità, perché è un impianto ad elevata efficienza energetica, ma è anche un impianto realizzato con criteri di sicurezza molto elevati. La nostra mission è quella di essere sempre più vicini ai nostri clienti, con servizi di qualità e molto professionali. La nostra organizzazione è un'organizzazione che si compone di due business unit vendita e post vendita, che sono chiaramente non solo collegate da di loro, ma anche in continuo rapporto con la sede di Piacenza, quindi abbiamo voluto creare questo polo del nord con la sede di Brescia che completa anche l'altra sede che abbiamo aperto il primo di luglio.